Zampa verso Bellinzona verso Novara la stazione il binario 5 di corsa il binario 6 e 7 per l'incroci attenzione treno in transito al binario 5 allontanarsi dalla linea carta attenzione treno in transito al binario 5 allontanarsi dalla linea carta è martedì pomeriggio siamo a maggio ore 13 e 40 siamo in stazione a Sesto Calende sul piazzale binari della linea Luino Novara il fabbricato viaggiatori della stazione di Sesto Calende per la linea Luino Novara Zampa verso Bellinzona verso Novara grazie 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 a tutti. 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 La sala d'attesa chiusa. Zampa. 15 chilometri da oleggio origine della ferrovia. Treno in sosta sul binario 7. Verso Novara. Verso Bellinzona. E' appena passato un treno merci da Novara per Rotterdam di BLS Cargo. Il fabbricato viaggiare. Il fabbricato viaggiatori della stazione di Sesto Calende per la linea Luino Novara. Treno in sosta. sul binario 7. verso Bellinzona. Verso Bellinzona. Zampa. Zampa. Abbiamo appena passato un treno merci per il treno merci per il treno merci per Rotterdam di BLS Cargo.